Il comando ha accolto la vostra richiesta di localizzare l'obiettivo prioritario, Leon S. Kennedy. Restate in attesa. Squadra Delta, abbiamo appena intercettato una richiesta d'aiuto di quella gente, Leon Kennedy. Si trova con altre due superstiti, Claire Redfield e la figlia del Dr. Burby, Sherry. La chiamata proveniva dal cantiere di Lomsday. Le forze militari si stanno recando da loro. Fare che Sherry sia stata infettata dal virus G e le sia stato somministrato un antigeno. Il vaccino è andato perso insieme al laboratorio, ma l'antigene è ancora nel suo organismo. Neutralizzate Leon e Claire e consegnate Sherry all'ambrella. È la vostra ultima occasione. Odio di Divo confermato. Pronto e in movimento. Passo e chi? D'accordo. Possiamo fidarci di loro. Ci serve un piano di emergenza. D'accordo. Ci serve un piano di emergenza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Forze speciali. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Claire, spara! Ehi, la... Eccone l'altra! Buota di copertura! Forze speciali! Uccidete! Buota di copertura! Buota di copertura! Levatevi da lì! Granata innescata! Buota di copertura! 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 Buota di copertura!